La Virtus San Nicolò si avvicina al derby in programma domenica ad Avezzano. Il match valevole per la tredicesima giornata di andata del girone F di Serie D sarà una delle sfide di cartello della giornata e sarà in pratica l'unico derby abruzzese. Dopo le brillanti prove con Re Canatese e Monticelli gli uomini di Campanile sono chiamati a ripetersi contro i marsicani ma di fronte hanno una delle migliori formazioni del torneo. Gli uomini del presidente Paris sono stati capaci, dopo una partenza alquanto difficile, di inanellare otto risultati utili consecutivi, merito anche finalmente dell'esplosione del brasiliano Dos Santos. L'accesso nella zona playoff ha poi riacceso l'entusiasmo intorno alla squadra in città. Il tifo organizzato è pronto a sostenere i biancoverdi domenica allo stadio dei Marsi. Sulla sponda a Biagazzura però l'entusiasmo non è da meno, anche per il neoacquisto della settimana, l'attaccante Daniel Giampaolo, ex Giulianova, che sarà subito a disposizione del tecnico Luca Campanile. Quattro gli ex della gara comunque che hanno militato nel recente passato con i marsicani. Oltre a Stefano De Angelis che ha ricoperto anche il ruolo di direttore sportivo per ben tre stagioni, ci sono i difensori Indiaie e Fabriani, il biancoverde nella passata stagione e il centrocampista Sassarini. La gara del De Marsi domenica alle ore 14.30 sarà diretta da Andrea Bianchini di Perugia che sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Maria Masciale e Nicola Morea di Molfetta.